Ritorno! Attenzione al gas! Andate nella zona sicura! Per rientrare dovete sovrattenere al gutto alla rovescia! Ottenete punti per accelerare il contesto! Bersaglie in campo! Abbatteteli! Sua fine del coattivo! Disturbatore radar nemico nella vostra area! Scopo! Bersaglie in campo! Bersaglie in campo! Bersaglie in campo! L'obiettivo è stato marcato. Bisogna eliminarlo. Uo avvi nemico attivo! Uo avvi nemico attivo! Uo avvi nemico attivo! Il gas vi è quasi attosso! Uo avvi nemico attivo! C'è poco tempo! Andate alla meta! Mi servono pure! Abbattrò opportunità per fare la differenza! Uo avvi nemico attivo! Contratto completato! Pagamento autorizzato!